Ciao a tutti e buon Ferragosto! Ciao a tutti e buon ferragosto! Sono qui davanti alla mia macchina da cucire per personalizzarla con questi stickers in stile guadagnino, Mermite style My machine to serve Nekki L'ho trovati ieri in cartoleria, sono proprio carini! Vediamo un po' Allora sicuramente il cavalluccio marino bellissimo Qua, troppo bello Poi vediamo La balena o lo squalo, no lo squalo, cioè gli inti A dire il vero potrebbe quasi assomigliare alla Poli Shark, questo come marchio Oh quant'è carino, la medusa Un paio di conchiglie Che carino, qualcosa sotto lì, vediamo Cosa può starci bene lì sotto, la balena Potete anche voi scegliere degli adesivi in cartoleria a seconda di quello che vi piace di più E personalizzarvi la vostra macchina da cucire Io ho un altro cavalluccio marino però la metterei anche qua Troppo carino Oh che bello! E mettere anche la medusa Gli altri li terrò per qualcos'altro Casomai ancora un pesciolino Buon ferragosto a tutti e buone vacanze Ecco la mia macchinetta bella personalizzata Buon ferragosto a tutti Ho spero che questo video sia stato piuttosto a voi Ascrivetevi al mio canale se non avete già visto Seguimi su Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest E visitate il mio sito www.eleamoda.it Vi vediamo la prossima settimana con un nuovo video Ciao